Salve a tutti voi, in questa puntata parliamo del fotovoltaico. Qui alle mie spalle vedete un pannello fotovoltaico, siamo nell'atrio dell'Istituto Edile di Bologna che alcuni anni fa ha installato nel proprio tetto una serie consistente di pannelli fotovoltaici e quindi parleremo anche proprio della resa economica di un investimento nel fotovoltaico. Prima di partire con le interviste con gli esperti vogliamo ricordare che il Presidente Napolitano nel discorso di fine anno, che è l'ultimo perché è alla fine del suo settennato di Presidenza della Repubblica, ha ricordato il suo impegno sul tema della salute e della sicurezza. Sicuramente l'impegno del Presidente della Repubblica ha mobilitato le istituzioni. Non a caso in questi sette anni il calo degli infortuni sul lavoro in Italia è stato molto significativo, lo dicono i dati dell'INAE ma lo dicono anche tutte le analisi, anche se ne abbiamo ancora troppi in Italia. Certamente la riduzione è stata estremamente significativa e di questo dobbiamo ringraziare l'impegno del Presidente Napolitano. Vorrei tornare ma non ne ho il tempo e quindi li richiamo solo per memoria anche su altri motivi di mio costante impegno durante il settennato. La sicurezza sui luoghi di lavoro come parte di una strategia di valorizzazione del lavoro che è condizione anche per il successo di intese volte a elevare la produttività e competitività del nostro sistema economico. E adesso vediamo le interviste con gli esperti. E' una rivoluzione tecnologica in corso, una rivoluzione che sta portando a livello mondiale la disponibilità di una nuova fonte di energia. Il regime degli incentivi che calano ogni anno sta consentendo la riduzione dei costi e quindi tutto questo sta rendendo competitivo e affidabile il fotovoltaico a livello mondiale. Nel 2008 abbiamo installato alla scuola Edile a Bologna un impianto fotovoltaico applicato sulla copertura del capannone, il laboratorio dove vengono svolte le attività di formazione sui temi dell'edilizia. Un impianto che è circa di 40 kilowatt di potenza di picco. L'abbiamo tenuto monitorato in questi ultimi anni e possiamo dire che è un impianto che ci ha reso più o meno all'anno 40.000 kilowattora con una valorizzazione economica di questa energia prodotta pari a circa 22.000 euro all'anno che è una cifra importante. Interessante vedere che di questi 22.000 euro circa 16.000 euro è il contributo che lo Stato dà come incentivo per la produzione fotovoltaica. Circa 5.000 euro è la valorizzazione relativa all'autoconsumo, cioè noi consumiamo l'energia che ci produciamo gratuitamente col sole, quindi non la paghiamo al gestore. Invece la vendita, quello che noi cediamo in rete, vale poco più di 1.000 euro. L'impianto fotovoltaico dell'energia che viene prodotta circa il 70% è autoconsumata dentro, questo è un buon numero, nonostante la scuola rimanga chiusa i sabati e le domenelle. che l'estate, durante le feste, quindi abbia dei momenti di inattività, quindi 70% autoconsumo, circa 30% vendita. L'energia prodotta annualmente da questo impianto copre circa il 42% del fabbisogno complessivo elettrico della scuola, il che ci fa dire che siamo ben oltre gli obiettivi del 2020-2020. Si stanno facendo dei ragionamenti per capire se l'impianto può essere ampliato e in qualche modo vedremo cosa succede. Sul fronte rinnovabili sicuramente alle porte ci sono dei nuovi sviluppi e delle nuove attese, soprattutto quella più importante legata agli obblighi del decreto 28 marzo 2011 che impongono di soddisfare almeno il 20% dell'energia per riscaldamento, per acqua calda sanitaria e per raffrescamento attraverso fonti rinnovabili. Quindi questo limite del 20% che vale già adesso per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni importanti, andrà via via crescendo fino ad arrivare al 2017 dove dovremmo soddisfare il 50% di questo fabbisogno. Da una parte è sicuramente necessario con delle rinnovabili soddisfare una quota importante del fabbisogno, ma dall'altra è importante concepire degli edifici che siano a basso consumo energetico e che siano già intrinsecamente efficaci nel ridurre la domanda di energia. E questo è un concetto molto importante direi perché troppe volte vediamo edifici che non sono pensati per risparmiare energia, con delle grandi vetrate, con dei rapporti superficie-volume poco efficaci e poi che hanno il fotovoltaico. L'energia rinnovabile, il fotovoltaico non è risparmio energetico, è una modalità alternativa di produrre dell'energia a bassissimo impatto ambientale, ma all'inizio della piramide del risparmio energetico ci sta concepire un edificio che sia già pensato per risparmiare energia. Allora questo nuovo decreto sicuramente darà un nuovo impulso, una nuova vita all'uso di queste tecnologie. Il quinto conto energia è già pronto ed entrerà in vigore successivamente. Questo porterà dei cambiamenti rispetto alle modalità incentivanti a cui siamo abituati oggi, in particolare quello che succede è che saranno premiati maggiormente gli impianti sugli edifici, piuttosto che quelli a terra, e impianti che usano l'energia rinnovabile prodotta attraverso l'impianto fotovoltaico per i propri usi interni, piuttosto che cederli in rete. Il tema degli sbilanciamenti sulla rete, degli equilibri della rete, legati al fatto che questi impianti possono cedere in maniera abbastanza incontrollata grandi quantità di energie sulla rete, crea effettivamente degli sbilanciamenti e dei problemi di tipo strutturale di gestione della rete, per cui la volontà è proprio certamente quella di promuovere l'autoconsumo di questa elettricità. Da un punto di vista delle tecnologie, negli ultimi tempi abbiamo fatto degli enormi passi avanti, sono previsti certamente tecnologie innovative, in particolare queste che si integrano nell'edificio, cioè il cui modulo fotovoltaico diventa un sostitutivo di una parte di edificio e ne fa la funzione, ad esempio la cosa classica su una copertura, un elemento proprio di copertura che può essere completamente rimosso e sostituito da un elemento fotovoltaico che quindi oltre che garantire la tenuta all'acqua e gli altri requisiti che una copertura deve avere, anche consente di produrre elettricità. Oltre ai soliti moduli in silicio, diciamo base silicio, abbiamo diverse tecnologie che stanno prendendo piede, la più interessante probabilmente è quella legata ai film sottili, al CIS, CIGS, che stanno aumentando le potenze e hanno dei costi ancora più contenuti. Visto che parliamo di sicurezza, va sicuramente detto che il settore è molto impegnato sugli standard di sicurezza. È un settore che viene dal settore elettrico italiano e dai grandi impiantisti che si unisce con il settore edile. Dal settore elettrico vengono best practice e a particolari attenzioni alla sicurezza degli operatori e su questo direi che il fotovoltaico italiano sta facendo grandi passi avanti e soprattutto con grandissima attenzione a questo tema che è al centro degli interessi di tutte le aziende del settore per lo sviluppo stesso del fotovoltaico in tutta Italia. La formazione degli operatori a livello italiano, per quanto riguarda soprattutto le installazioni e la manutenzione dell'impianto, è un tema che sta a cuore a tutte le aziende del settore per lo sviluppo stesso del mercato. Sono ancora molti gli operatori che sono necessari nel settore. va valutato che per ogni impianto installato l'impianto va mantenuto in funzione per 20 o 25 anni e la buona manutenzione dell'impianto garantisce le ottime rese sia in produzione di energia che in ritorno dell'investimento economico. Bene, grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa puntata sul tema dell'installazione degli impianti fotovoltaici. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.